L'idea di fare queste due serate dedicando appunto il ricavato in beneficenza affinché si possa collaborare, dare una mano a questo territorio in cui è stato devastato dall'alluvione. Fare due serate un po' concentrandosi sul folklore, cioè la storia della Romagna è nata lì e si è allargata un po' in tutta Italia e in tutto il mondo. E noi queste due serate le vorremmo dedicare interamente in beneficenza a quel territorio con appunto artisti di quel territorio che si sono resi disponibili con tanto piacere a partecipare a questa serata. Mentre il 18 martedì, grazie all'amica Simona, abbiamo pensato di invitare tutte le scuole di ballo del territorio pesarese affinché, e non solo, affinché si possa in qualche maniera allargare un po' la disponibilità e anche l'interesse a partecipare numerosissimi, speriamo, e cercare di devolvere il più possibile, ecco, questo territorio è veramente in grande difficoltà. Dobbiamo ringraziare la disponibilità della Villa Berloni, grazie ai nuovi gestori, e anche al nostro collaboratore amico Pierpaolo, che si stanno prodigati a darci la villa, la sensibilità da parte loro, visto il contesto che ci permette di raccogliere fondi per dare in beneficenza, e loro hanno fatto la loro parte offrendosi appunto la villa a costo zero per queste due magnifiche serate.